Innanzitutto mi voglio presentare, per chi non mi conoscesse, mi chiamo Simone Rubessi e faccio il trader in Top Trading Academy. Inizio appunto col darvi un'idea di cosa sono i cicli di borsa e poi andiamo a vedere la loro applicazione sui prezzi e come si utilizzano nel pratico. Un ciclo di borsa non è altro che un periodo di investimento programmato da parte della mano dominante del mercato. Per mano dominante si intende quell'insieme di operatori istituzionali di alto livello che avendo ingenti quantità di titoli, future eccetera da acquistare e vendere, muovono i mercati a seconda delle loro azioni su questi contratti. Iniziamo con stabilire una regola principale, ovvero che un ciclo inizia su un minimo dei prezzi, successivamente avrà una fase di rialzo, un massimo e una successiva fase di ribasso. Se non capite qualcosa scrivetevi in chat, mi raccomando non fatevi riserve a fare domande, è importante che capiate. Ci sono altri tipi di cicli, questo che vi ho fatto vedere è un ciclo diciamo laterale, che cosa vuol dire? Vuol dire che il minimo di partenza è più o meno sullo stesso livello del minimo di arrivo. Ci sono anche cicli rialzisti, ovvero cicli che presentano il minimo iniziale inferiore rispetto al minimo finale. Questi cicli avranno ovviamente una fase di rialzo più pronunciata rispetto alla fase di ribasso e il massimo sarà più spostato verso il minimo finale. Allora Andrea mi dice che non sente più niente. Vediamo se riusciamo a risolvere il problema. Andrea mi senti? Scusate ma cerchiamo di risolvere il problema velocemente, poi dopo proseguiamo. Vi chiedo un minuto di pazienza. Dovrebbe sentire. Gli altri mi sentite tutti no? È solo un problema suo immagino. Fatemi sapere se mi sentite. Buonasera Simone. Abbiamo appena iniziato, sto facendo un'introduzione sui cicli di borsa. Poi passeremo all'indicatore oggetto del webinar di questa sera. Ok, gli altri mi sentono tutti. Speriamo che riesca a risolverlo a questo punto. Ok, riprendo perché purtroppo non possiamo fermarci se il problema è di una persona sola. Come vi ho detto questo è un ciclo rialzista. Ovviamente ci sono anche cicli ribassisti che hanno una situazione opposta, ovvero un minimo di partenza superiore rispetto al minimo di fine ciclo, avranno una fase di ribasso più pronunciata rispetto alla fase di rialzo. E il massimo, in questo caso, sarà spostato verso il minimo di partenza. Fino ad adesso è tutto chiaro? Fatemi sapere se è chiaro. Ok, chiaro per tutti, bene. Questa immagine è il cosiddetto cicloma. Che cos'è il cicloma? Di base è una raffigurazione di come i cicli si influenzano fra di loro. Mi spiego meglio. Quello che vedete, il rosso è il ciclo, diciamo, più grande che vedete qui. E vedete anche che questo ciclo rosso è formato da tre cicli blu, i quali sono formati da due cicli verde acqua, i quali sono formati da tre cicli giallo ocra. Questo per dirvi cosa? Per dirvi che un ciclo è formato da tanti cicli inferiori ed è parte di cicli superiori. E una cosa molto importante che bisogna sottolineare è che quando parte un ciclo, come il rosso in questo punto, partono anche tutti i cicli inferiori. Quindi in questo punto partirà il rosso, il blu, il verde acqua e il giallo ocra. Non è detto che in questo punto parta un ciclo superiore, perché questo potrebbe essere anche il secondo, ma sicuramente partono i cicli inferiori. È possibile ovviamente che qui parta anche un ciclo superiore, ma non è detto. Qui c'è un esempio, giusto per rendervi meglio il concetto. Qui abbiamo preso per esempio il ciclo mensile e è formato da due cicli a 16 giorni, i quali sono formati da due cicli a una settimana, i quali sono formati a loro volta da due cicli a quattro giorni, che sono formati a due cicli a due giorni, fino a cicli di brevissimo periodo, che possono durare anche una sola ora. Anche qui il mensile sarà parte di cicli superiori, fino ad arrivare a cicli lunghissimi, come per esempio il ventennale. Anche qui voglio farvi vedere un esempio di ciclo rialzista. Come vedete c'è il minimo finale che è superiore rispetto al minimo iniziale e che cosa si può evincere anche da questa immagine? Il fatto che i cicli, i sottocicli del ciclo che stiamo osservando, come il ciclo a 16 giorni, il ciclo a una settimana, ovviamente saranno influenzati dal ciclo mensile, perché se a questo punto parte un ciclo mensile, il primo ciclo a una settimana sarà sicuramente rialzista e anche il ciclo a 16 giorni, formando un andamento rialzista, fino al massimo del mensile. Chiaro questo concetto? Cerco di rendervelo il più intuitivo possibile, poi ovviamente andiamo a vederlo sui prezzi. Da studi statistici possiamo affermare che il mercato si replica nella maggior parte delle volte con le seguenti conformazioni cicliche. Partendo dal mezzo secolare che dura all'incirca 50 anni, è formato da due cicli ventennali, quali sono formati a due cicli decennali, quali sono formati a due cicli economici che durano circa 4-5 anni, sono formati a due cicli biennali fino ad arrivare a cicli a un'ora. C'è una variazione che è questa, per esempio. Negli ultimi, diciamo, due anni c'è stato un cambiamento, sul ciclo annuale in particolare. Il vecchio annuale era formato da due semestrali formati da due intermedi. Negli ultimi, appunto, due anni il ciclo annuale è formato da tre cicli intermestrali, che sono tre cicli formati da tre cicli mensili. Anche qui si può avere, diciamo, una duplice possibilità di scenario, cioè il mensile può essere formato da due cicli a 16 giorni, come nell'esempio che vi ho fatto vedere prima, oppure può essere formato da tre esaritmici, che sono tre cicli a 12 giorni, i quali sono formati da tre cicli a quattro giorni. Poi, ovviamente, da quattro giorni si riprende con la normale suddivisione, tendenzialmente. Tutto chiaro fino a qua? Fatemi sapere in chat sempre, così so se mi state seguendo o no. Benissimo. Ecco, questo è. Quindi il parametro è comunque il tempo. Sì, diciamo che il ciclo si misura in relazione al tempo, che ovviamente non è sempre perfetto, perché ovviamente i cicli hanno un parametro di tolleranza che è circa un più o meno 20%. Poi ci sono anche casi eccezionali in cui i cicli, diciamo, si dilatano, formando delle fusioni, che dopo magari vi vado a introdurre. Questo è un esempio sui prezzi, per darvi proprio l'idea del ciclo sui prezzi. Sono cicli biennali sull'euro-dollaro. Come vedete, formano un andamento fatto a sinusoide, come i cicli che vi ho fatto vedere prima, e in questo caso abbiamo il minimo di partenza, che è più o meno sullo stesso livello del minimo finale. Abbiamo il massimo circa a metà ciclo, e la fase di rialzo è praticamente uguale a livello di ampiezza alla fase di ribasso. Questo è il cosiddetto ciclo laterale. Poi abbiamo questo che è ribassista, perché è ribassista? Perché la fase di ribasso è quasi doppia rispetto a livello di profondità, rispetto alla fase di rialzo. Cioè, qua abbiamo questa ampiezza contro questa. Qui invece abbiamo di nuovo un ciclo che è laterale, e quest'ultimo invece è un ciclo rialzista, perché attualmente siamo all'incirca qua e dovremmo essere più o meno alla fine. Questa è un'immagine un po' vecchia. Questo indicatore che vedete in sottofondo è un altro nostro indicatore, che si chiama indicatore di ciclo, che ci aiuta appunto ad individuare queste conformazioni sui prezzi. Vedete l'immagine non tratteggiata, cioè la linea non tratteggiata rappresenta l'andamento dei prezzi, mentre quella tratteggiata è la sua velocità. Per darvi, diciamo, una comprensione veloce, quando la linea tratteggiata supera l'asse dello zero, siamo vicini a un minimo. Finché sta sopra, siamo nella fase di rialzo. Quando rompe l'asse dello zero a ribasso, siamo in una zona di massimo e viceversa, al contrario. Finché la velocità sta sotto, siamo in un ribasso fino a una nuova rottura a rialzo. Quindi, rottura a rialzo, minimo, rottura a ribasso, massimo, rottura a rialzo, minimo. Questa è una breve introduzione anche a questo indicatore. Ve l'ho fatto vedere perché è il più intuitivo nella visione del ciclo sui prezzi. E un'altra cosa da considerare è il fatto che, essendo tutti i cicli biennali, come vedete, durano più o meno lo stesso tempo. Adesso passiamo al DNA, che è l'indicatore, diciamo, oggetto del webinar. Finora è chiaro? Avete più o meno un'idea di cosa sono i cicli? Sì o no? Ok. Se c'è qualcosa che volete rivedere o che non vi è chiaro, chiedetelo. Va bene. Allora, che cos'è e come si usa il DNA nel trading? Inizio col farvelo vedere, così avete già, diciamo, una prima comprensione a livello grafico di che cos'è il DNA. Il DNA è questo indicatore verde, a linea continua, che di base serve ad individuare ovviamente le inversioni e i minimi e i massimi e ci dà anche un'informazione molto importante. Cioè ci dice a livello temporale quando potrebbe esserci la nuova inversione. In questo caso i prezzi sono a questo livello, ma sappiamo che probabilmente quando arriveranno qui, a livello temporale, ci dovrebbe essere l'inversione. Il DNA di fatto non è altro che un algoritmo che elabora un'analisi dei prezzi del passato e da essi sviluppa un'ipotesi di futuro possibile. L'ipotesi ovviamente è probabilistica ed è un'ipotesi ciclica, quindi tarata su un ciclo. Essendo una previsione probabilistica possiamo affermare in relazione ai test su dati storici che le percentuali di correttezza variano in relazione al periodo preso in esame. In che modo? Più è lungo il periodo e meno probabilità d'errore c'è. E perché questo? Perché più è lungo il periodo e più è difficile per le mani forti creare delle finte degli scossoni. Ovviamente se noi volessimo creare uno scossone su un ciclo di breve periodo basterebbe poco in termini di quantità di contratti mentre se volessimo creare degli scossoni su un ciclo di lunghissimo periodo avremmo bisogno di molti più contratti e quindi è molto più complicato. Ed è per questo motivo che la percentuale di correttezza varia. Per darvi un'idea ci aggiriamo intorno a un 40% sul giornaliero 45 mensile 54 intermestrale fino al ventennale che è un 75%. Ovviamente i cicli intermedi avranno una percentuale a forbice una percentuale contenuta nella forbice fra i due cicli. Badate bene però che il 40% di prima chito può sembrare una percentuale diciamo non troppo buona nel senso che di solito quando uno dice cavolo percentuale di 40% sembra poco ma considerate che con un appropriato money management il 40% è molto perché perché se voi entrate al mercato con un rendimento sul rischio adeguato cioè 4 a 1 quindi rischio 1 rendimento 4 il 40% vi permette di portare a casa dei risultati molto molto interessanti. Sapete tutti cos'è il rendimento sul rischio? Se no ve lo spiego. no ok Andrea non lo sa quindi ve lo spiego praticamente il rendimento sul rischio è ovviamente un rapporto fra quanto è la mia prospettiva di guadagno in relazione a quello che sto rischiando normalmente un bravo trader opera con rendimento sul rischio pari a 4 facciamo un esempio molto semplice mettiamo che la mia operazione ha una prospettiva di guadagno pari a 400 su questa prospettiva di guadagno il mio rischio deve essere al massimo 100 in questo modo ho rendimento 400 rischio 100 rendimento sul rischio 4 quindi se io come in questo caso che ho una percentuale di di segnale mettiamolo così chiamiamolo segnale ma in realtà un segnale non è cioè se noi abbiamo una percentuale di correttezza di questo indicatore del 40 vuol dire che nelle 4 operazioni su 10 che io faccio giuste porta a casa 400 mentre nelle restanti operazioni perdenti io perdo 100 c'è qualcuno che ha attivato il microfono ti chiedo solo di disattivarlo se no sento il ritorno in cuffia in questo caso scusa qua è 6 non è 1 quindi 6 operazioni in loss a 100 mi generano una perdita di 600 4 operazioni su giuste 4 operazioni giuste con 400 di gain generano 1600 quindi io con 4 operazioni giuste su 10 porto a casa 1000 netti qui sto buttando numeri a caso giusto per farvi capire il concetto l'indice di rischio non è che si prende devi essere in grado di calcolarlo Andrea ci sono degli indicatori che ti permettono di calcolarlo comunque per ora voglio solo passarvi non ho capito ok Mauro adesso te lo rispiego non hai capito il concetto di ritorno sul rischio Mauro fammi dimmi che cos'è che non hai capito ok allora ritorno sul rischio è un rapporto di redditività cioè quanto io punto a guadagnare in relazione a quanto sono disposto a perdere quindi quando io entro a mercato punto a guadagnare 400 ma non è che lo punto così a caso cioè in relazione alla mia analisi so che ci dovrebbe essere un'escursione di 400 punti facciamola in punti su questa escursione di 400 punti sono disposto a rischiare 100 quindi se la mia operazione è giusta porto a casa 400 se la mia operazione è sbagliata perdo 100 fino a qua ci siamo fammi sapere se mi stai seguendo Mauro ok bene a questo punto io so che questo indicatore mediamente ha una percentuale di correttezza del 40% quindi mi farà 4 operazioni giuste e 6 sbagliate a livello percentuale quindi se me ne fa 4 giuste e 6 sbagliate le 4 giuste mi genereranno 400 ognuna perché con un rendimento sul rischio 4 io farò 400 la prima 400 la seconda 400 la terza e 400 la quarta non è detto che le faccio tutte in fila però è giusto per farti capire 4 operazioni giuste con 400 punti di guadagno mi generano un guadagno di 1600 punti le restanti dove io sbaglio e perdo perdo non 400 ma 100 perché il rendimento sul rischio rimane 4 e mi generano una perdita di 600 quindi utilizzando questo indicatore con questo rendimento sul rischio io avrò 1600 di guadagno e 600 di perdita creando 1000 punti netti di guadagno è un po' più chiaro fammi sapere Mauro se è un po' più chiaro adesso ok gli altri mi hanno seguito oppure oppure no benissimo stasera siete abbastanza bravi dai no scherzo quindi apparentemente un 40% di correttezza sembra poco ma in realtà è tantissimo poi vedremo anche come ottimizzarlo questo 40% quando andiamo a vedere la strategia operativa però sappiate già che potenzialmente operando con solamente questo indicatore con un rendimento sul rischio corretto si potrebbe fare già un buonissimo risultato quindi essendo la previsione inerente a un determinato ciclo può essere utilizzata con profitto sia durante il trading sia con gli investimenti di lungo periodo per fare ciò andiamo a definire quali sono i punti di forza e di debolezza del DNA affinché lo si possa utilizzare in modo corretto allora la prima caratteristica del DNA che è quella che un po' vi accennavo prima cioè è sviluppato su asse zero quindi è senza tendenza che cosa vuol dire vuol dire che la sua funzione è quella di identificarmi le inversioni quando ci saranno quelle inversioni ma non a quale prezzo prendiamo questo esempio qua mi ha identificato perfettamente il minimo qua al massimo qua mi dice che siamo qui questo punto mi dà uno spazio di salita fino qua ma non è detto che questo massimo sia superiore a questo perché non è detto perché dipende dal ciclo superiore abbiamo detto che i cicli si influenzano fra di loro di conseguenza questo sarà influenzato dal ciclo superiore potrebbe essere sopra questo massimo qua o potrebbe essere sotto questo lo dobbiamo vedere nel ciclo superiore però sappiamo che a livello temporale dovrebbe essere qui quindi potrebbe essere nel caso in cui questo ciclo fosse rialzista potrebbe essere questo il suo andamento nel caso in cui fosse ribalsista potrebbe benissimo essere questo ok quindi non mi dà l'ampiezza ma mi dà la temporalità direzione non obiettiva bravo Luca sì proprio così questo deve essere chiaro perché altrimenti nell'operatività ci si fa male nel senso che se io qua fossi convinto che il massimo supera questo massimo qui può essere di sì ma può essere anche di no devo andare a controllare devo fare un'analisi più approfondita però so che magari da qui a qui adesso la barra del tempo magari da qui a qui c'è un mese bene io so che probabilmente ci sarà un mese di salita non so di quanto perché non ho guardato il ciclo superiore ma sicuramente da qua non mi metto short tanto per per darvi un'idea chiaro? la prima caratteristica è questa che bisogna comprendere fatemi sapere se questo concetto è chiaro benissimo bene la seconda è che essendo ciclico subisce l'effetto delle fusioni cicliche va pertanto ritarato ma questo diciamo che è un pregio non è un difetto nel senso che il fatto di subire l'effetto delle fusioni cicliche ci permette di individuarle che cos'è intanto una fusione ciclica? una fusione ciclica è quando un ciclo si dilata di più rispetto alla sua normale durata facciamo un esempio se noi abbiamo un ciclo giornaliero che mi dura un giorno e mezzo significa che il ciclo giornaliero si è fuso con due giorni quando succede questo? succede quando c'è una tendenza di fondo particolarmente forte da prolungare la durata di quel ciclo e come riusciamo a individuarlo? prendiamo sempre questo tipo di esempio questo è un biennale mettiamo che i prezzi arrivati qua non invertono ma fanno questo questo vuol dire che questo ciclo probabilmente dura di più di un biennale perché? perché a livello temporale il massimo dovrebbe essere questo se mi fa il massimo qui è inevitabile che questo ciclo sta subendo una fusione ciclica e quando sono qua quando i prezzi mi rompono diciamo a livello temporale la ciclicità io posso ritarare questo indicatore trovando anche qui è probabilistico trovando qual è il ciclo che sta funzionando in quel momento questo è un concetto magari un po' più chiaro un po' più difficile per chi è nuovo per Gilberto ormai è chiarissimo perché è un veterano ormai per gli altri è chiaro? allora bisogna settare da sé sì e no nel senso che dopo ti faccio vedere nella strategia nel senso che noi abbiamo due tipologie di utilizzo di questo strumento su un nostro sito in cui è già settato mentre su multicharts invece è da settare però non è un problema perché dopo ti ti spiego tutto al riguardo in generale sì ma dove si possono recuperare questi cicli? ma i cicli non è che si recuperano da qualche parte questi indicatori questi indicatori ti permettono semplicemente di individuarli perché se tu non avessi questi strumenti vedresti solamente i prezzi e faresti molta fatica a capire se qui i prezzi probabilmente salgono probabilmente scendono questi non sono altro che indicatori poi arriviamo anche alla strategia vedi bene come come si utilizzano a livello operativo però la cosa importante è che a livello concettuale tu abbia capito e questo concetto di individuare le fusioni cicliche è molto importante appunto perché al giorno d'oggi ci sono sempre più fusioni cicliche quindi è molto molto importante avere uno strumento che ti permetta di capire quando ci sono e soprattutto che tipo di fusione è cioè quanto dovrebbe durare il ciclo fuso molto importante e poi ovviamente il punto 4 è che permette di individuare minimi e massimi con una precisione incredibile come vedete qua cioè quando siamo in queste fasi queste o queste non ci sono grossi dubbi su dove si è a livello ciclico poi come come timing è tutto un altro discorso però sicuramente sappiamo dove siamo questo è un altro vantaggio allora qui vi sto facendo vedere due dna questo qui grigio e questo qui verde questo è un utilizzo di dna su due cicli diversi utilizzando il concetto che quando parte un ciclo devono partire anche tutti i cicli inferiori quindi se io stessi tradando un ciclo a 4 giorni sull'ftsm come in questo caso nel caso di sopra dove il dna è grigio questo è un dna a 4 giorni sull'ftsm sul minimo del 4 giorni per forza ci deve essere anche un minimo del 2 giorni e così è quando quando due dna combaciano di due cicli diversi le probabilità aumentano ancora di più quindi qua sappiamo che qui è partito un ciclo a 4 giorni qui guardate su questo minimo che coincide perfettamente sui due dna ci dovrebbe essere il minimo del primo ciclo a 2 giorni perché? perché un ciclo a 4 giorni è formato da due cicli a 2 giorni guarda 1 e 2 qui in questo punto c'è il minimo del primo 2 giorni e qui c'è il massimo del secondo 2 giorni che probabilmente coinciderà anche col massimo del 4 giorni e poi qua guardate il minimo dei 4 giorni coinciderà anche con il minimo del secondo 2 giorni mi seguite? mi seguite o volete che ve lo rispiego? cerco di tenervi sul pezzo perché voglio che mi seguiate non mi serve che che vi perdete se no poi sulla strategia fate ancora più fatica bene per ora sembra tutto ok poi se vi viene in mente qualche domanda fatela grande Claudio ok vediamolo operativamente ok questo è il grafico della FTS MIB e questo è il suo prezzo di chiusura di oggi che cosa si vede? si vede che il DNA su questo ciclo è perfettamente diciamo aderente ai prezzi nel senso che i minimi e i massimi coincidono di conseguenza questo è il ciclo che sta girando sui prezzi questo qui di sotto è l'indicatore di ciclo che come vi ho detto si legge in questa maniera quando la velocità supera l'asse dello zero al rialzo c'è il minimo quando la velocità supera l'asse dello zero al ribassino c'è il massimo e qui c'è il successivo minimo e così è stato in questo minimo collima sia il DNA cioè abbiamo il minimo DNA e il minimo indicatore di ciclo sicuramente qui anzi non voglio dire sicuramente perché in borsa di sicuro non c'è niente ma qui molto molto probabilmente siamo su un minimo di un ciclo a 4 giorni come vi ho detto è importantissimo capire la tendenza di fondo perché influenzerà la tendenza del ciclo che stiamo guardando questo è un 4 giorni quindi da qui a qui sono passati 4 giorni e mezzo per la verità però voglio dire come vi dicevo all'inizio c'è una una dilatazione che può aggirarsi intorno a più o meno 20% e per capire se questo ciclo va tradato a rialzo o a ribasso vi apro questo grafico qui che non è altro che un un grafico del ciclo mensile che rappresenta la tendenza di fondo del nostro ciclo a 4 giorni quindi quello che stiamo tradando è un 4 giorni per capire se dobbiamo tradarlo a rialzo o a ribasso dobbiamo guardare il ciclo mensile che se avete un secondo di pazienza si apre qui abbiamo la partenza qui abbiamo l'arrivo del ciclo ecco qua guardate ancora un secondo che si caricano gli ultimi dati e poi vedrete anche qui l'indicatore di ciclo che appunto ci serve per capire se il ciclo è nella fase di rialzo o nella fase di ribasso allora questo è blu è l'indicatore di ciclo mensile quindi quando la velocità è sopra l'asse dello zero si trada il 4 giorni in long quindi da qui a qui noi facciamo i cicli a 4 giorni solo a fase long la fase short no perché no? per il concetto del ritorno sul rischio guardate qui come le fasi di rialzo sono nettamente più ampie rispetto alle fasi di ribasso quindi non ha senso prendersi dei rischi di fare dei ribassi in queste fasi quando i rialzi sono molto più ampi rischiate di prendervi il trend in faccia come suol dire cioè se qui sbagliate vi prendete un'impennata al rialzo che vi fa male e stessa cosa al contrario da qua a qua si fanno solo i ribassi perché il nostro ciclo mensile che è il ciclo di riferimento per la tendenza di fondo ha la velocità che è sotto l'asse dello zero di conseguenza qui faremo solo i ribassi anche qui abbiamo i trend ribassisti che sono molto molto più pronunciati quindi il rendimento sul rischio è adeguato per poter fare degli short in relazione ai long poi ci sono anche dei cicli che sono diciamo così laterali cioè da qui a qui abbiamo una lateralizzazione e allora diciamo che si opera long perché la velocità è sopra l'asse dello zero ma non ci dà una grande tendenza come in questo caso però se noi riusciamo ad individuare con buona precisione le inversioni entrare sui minimi uscire sui massimi possiamo comunque fare bene stessa cosa in questa fase da qua facciamo solo da qua a qua facciamo solo i short perché la velocità è sotto l'asse dello zero in questa fase facciamo solo i long perché la velocità è sopra l'asse dello zero e così via questo è il concetto di tendenza di fondo attualmente siamo diciamo in una fase vicino a un massimo del ciclo mensile quindi si può diciamo fare un long ma con prudenza la linea blu indica il ciclo cioè l'andamento dei prezzi te lo faccio vedere cioè vedi che indica l'andamento dei prezzi quindi minimo massimo minimo e questa è la velocità se non capisco perché usate spesso il time frame a 15 minuti che peraltro appesantisce molto il carico del lavoro della cpu e sul ciclo mensile ad esempio non utilizzare un ciclo orario le barre da caricare sarebbe molto meno nel tempo più veloce sì diciamo Claudio che è indifferente di fatto è che qua è un po' più tempestivo perché più il time frame è breve e più è tempestivo però puoi sicuramente utilizzare anche le barre orarie l'importante è che il settaggio dell'indicatore sia corretto ma il concetto è uguale chiaro nevio che cos'è la linea blu ok vi è chiaro quindi che come si legge la tendenza di fondo è fondamentale per capire se dobbiamo fare un long o un short bene individuata noi sappiamo che qua siamo vicini a un minimo perché abbiamo questi due indicatori che collimano poi qua si potrebbero raggiungere un'infinità di indicatori però giusto per darvi il il concetto guardate anche qua minimo qui diciamo che la velocità tagliata in questa fase però il dna dava minimo qui massimo cioè queste qua sono operazioni ogni due giorni e vi portano un rendimento diciamo all'incirca di 600 punti ognuna che non sono male mettiamo che non le centriate non le centriamo proprio perfettamente ma ne portiamo a casa anche solo 400 sono 400 punti ogni due giorni e sono sicuramente un bel rendimento considerate che un mini contratto vale un euro appunto quindi sarebbero 400 euro ogni due giorni questa è la potenzialità che vi danno questi strumenti non vi sto garantendo che ci riuscirete perché comunque ci vuole applicazione studio però sui minifib sì Andrea però questa è la potenzialità poi da qua si può ovviamente ottimizzare e capire bene quali sono i timing d'ingresso e i timing di uscita è giusto per farvi capire quanto può dare un valore aggiunto un indicatore di questo tipo piuttosto che quelli tradizionali che trovate in giro che sono non sono tarati ciclicamente sono indicatori un po' approssimativi diciamo detto ciò perché di fatto abbiamo costruito questi indicatori abbiamo costruito il nostro sito che si chiama top trading academy perché anche noi come tutti i trader abbiamo passato e se fosse allora chiedemi Dio e se fosse allora che cosa intendi il tempo se fosse allora basterebbe cambiare il settaggio dell'indicatore e non cambia niente perché questo indicatore ha un settaggio temporale dettato dal numero di barre se il time frame è più lungo cioè al posto di avere barre 5 minuti e barre orarie ridurrai il periodo dell'indicatore tale per cui lo setti correttamente nell'indicatore che ti interessa ma questo non è un problema nel senso che basta capire il concetto di come funziona è molto facile ok vi stavo dicendo abbiamo costruito questo questo sito perché come tutti i trader che all'inizio hanno che i trader che ad oggi fanno profitto e che all'inizio hanno avuto difficoltà ci siamo sentiti in dovere di fatto di creare una vera propria scuola che riuscisse a portare chi si approccia a questo mestiere da zero anche da zero non per forza da zero fino a utilizzare questi indicatori con disinvoltura creandogli un'infinità di problemi in meno perché considerate che quando abbiamo iniziato noi questi indicatori non si trovavano li abbiamo costruiti noi quindi abbiamo dovuto mettere impegno tanto tempo e tante perdite per poter arrivare qua perché il percorso di un trader è composto per forza da perdite non esiste a mio avviso un trader che parte guadagnando fin dai suoi primi approcci quindi si passa a una fase di perdita in cui uno studia tanto e applica tanto e dopo forse riesce ad arrivare a una strategia profittevole noi abbiamo voluto appunto creare questo sistema per evitare o per ridurre al minimo tutta la prima fase perché se uno ad oggi nuovo partisse e gli spiegassimo tutti i concetti che sappiamo sul trading e che abbiamo condensato all'interno della nostra accademia riusciremo a diciamo ventuplicare la velocità di apprendimento e di tempo per arrivare al risultato e per questo abbiamo costruito appunto una serie di video di video corsi come quello che vi sto facendo ora quindi in condivisione schermo che sono 110 in questi 110 video vi diamo proprio tutto il nostro sapere da veramente una base del tipo che cos'è il trading a quali strumenti finanziari è possibile tradare parliamo dei broker come scegliere quale scegliere quali scegliere in relazione a cosa volete tradare partiamo anche dallo spiegarvi gli indicatori base perché di fatto spieghiamo anche qualche indicatore base e poi la rendiamo sempre più più tecnica spiegando i nostri indicatori ma è fatta passo per passo quindi non preoccupatevi se avete l'idea di non riuscire a farci perché è fatta proprio per per essere comprensibile a tutti in più ogni cosa che spieghiamo è accompagnata da un video a mercati aperti questo perché perché vogliamo dare garanzia del fatto che quello che insegniamo è quello che facciamo quindi ogni indicatore è accompagnato da un video a mercati aperti fino ad arrivare alle strategie che utilizziamo tuttora tutti i giorni che sono quelle a nostro avviso più profittevoli considerate anche che all'interno di questo percorso c'è il nostro supporto perché ci rendiamo conto che una persona che si guarda di fila tutti questi corsi può avere domande o dubbi di conseguenza mettiamo a disposizione supporto sia via mail che telefonico per andare a chiarire eventuali dubbi o addirittura in condivisione schermo andarvi a proprio spiegare le parti che non avete compreso questo perché appunto il nostro obiettivo è portarvi al nostro livello cioè a padroneggiare quegli strumenti capire bene i mercati perché si sviluppano certi andamenti in modo che possiate tradare con serenità perché con questi strumenti riuscite a capire sempre dove siete cioè io anche se mi fa una sparata così al ribasso io so di essere nei dintorni di un minimo qui non mi metterei mai short perché so che probabilmente ci sarà un rimbalzo quindi qui siete in condizione di capire sempre dove siete vi fate le vostre analisi con i rendimenti sul rischio ci sono tanti altri indicatori che ovviamente non posso spiegarvi ora perché sennò staremo qua veramente ore e ore però questa è una strategia base che può essere utilizzata con successo ma da qui c'è tanto altro ci sono i volumi ci sono le bande di migliorino ci sono diversi indicatori che vi permettono di ottimizzare sempre di più la vostra analisi e le vostre performance di conseguenza questi indicatori come vi dicevo li abbiamo costruiti noi quindi non sono reperibili altrove perché ne deteniamo la proprietà intellettuale e sono stati programmati su Multicharts Multicharts è questa piattaforma che vedete e ha un costo nel senso che non è nostra ma è una piattaforma professionale americana secondo me la migliore ed è per questo che abbiamo deciso di programmarli qua dentro però per avvantaggiare i nostri utenti abbiamo deciso di costruire un altro sito che si chiama Rating & Consulting in cui abbiamo replicato tutti gli indicatori su 1500 prodotti finanziari per esempio qui sono all'interno dei mercati questo è l'FTS MIMB ci sono tutti i titoli contenuti in esso qui potete vedere anche altri indici ci sono i principali mondiali vi voglio far vedere come funziona per darvi un'idea qui prendo per esempio A2A vado all'interno di indicatori ci vuole un po' di pazienza perché ho molti software aperti quindi potrebbero darmi un po' di lentezza eccolo qua qui andiamo a prendere esempio indicatori di ciclo intermestrale ed ecco qua in questi giorni che escono le trimestrali buone e le azioni scendono mi spiega veramente sono applicabili questi indicatori ok allora arte è vero quello che dici però considera che la ciclicità contempla tutto contempla tutto perché viene generata dalle mani forti e le mani forti sono coloro che controllano i mercati quindi c'è chi magari può obiettare dicendo eh ma magari se esce una notizia piuttosto che un'altra ma quella notizia inspiegabilmente o ovviamente spiegabilmente esce sempre quando c'è un minimo o un massimo e non esce mai al contrario quindi i cicli sono in realtà non è un tipo di analisi tecnica ma è fondamentale perché si basa sull'entrata e l'uscita del denaro da parte di un mercato in un mercato per la MT4 avete qualcosa allora per la MT4 no ma è un influente perché se tu hai questo sito dove puoi effettuare tutte le tue analisi non hai bisogno della MT4 in più ai nostri utenti diamo anche un mese gratuito di multicharts con i nostri indicatori quindi diamo un ulteriore bonus ai nostri utenti volevo far vedere anche il DNA così da completare considerate che su questo sito abbiamo anche future future commodity forex etf criptovalute addirittura quindi tutto quello che potete immaginare lo trovate guardate qua per esempio il DNA intermestrale di A2A guardate come è preciso e qui mi dà un minimo e siccome qua abbiamo anche la barra del tempo il massimo probabilmente è intorno al 9 dicembre oppure al 28 in base ovviamente a qual è la tendenza di fondo tenete in considerazione che queste date considerano anche sabato e domenica che non si dovrebbero considerare i periodi ciclici sono periodi di borsa aperta quindi questo 9 dicembre potrebbe essere qualche giorno dopo però questo indicatore ogni barra ogni nuova barra si aggiorna quindi quando siete qua vi da massimo i prezzi sono sul massimo come in questo caso avete la vostra informazione corretta chiaro un po' il concetto fatemi sapere se avete domande ok qui abbiamo anche un ulteriore servizio che è un servizio di reportistica ve lo voglio far vedere qui in servizio strategia report c'è anche un report giornaliero fatto in due sezioni la prima è un'analisi di carattere generale nel senso che qui facciamo un'analisi generale e poi trattiamo nel lungo periodo un indice a rotazione fra in questo caso Eurostox Eurostox DAX e FTS MIB e indice Hanseng e qui facciamo un'analisi di lungo periodo e nella seconda parte facciamo un'analisi di medio periodo sull'FTS MIB sempre sull'FTS MIB questo è molto utile perché potete prenderlo come riferimento sul vostro studio cioè qua vedete come io interpreto questi indicatori che sono di fatto quelli che vi spiego e addirittura e addirittura potete vedere come io interpreto i mercati e se voi li interpretate diversamente da me potete appunto chiedere aiuto sul dubbio che avete perché se io qui penso che parta il ciclo e vedo che io qua dico che dovrebbe fare il minimo dico qua c'è qualcosa che non ho capito e vi serve da confronto sulla vostra comprensione sembra una cosa da poco ma non lo è è molto importante arriviamo al dunque diciamo che tutto questo servizio avevamo in mente di metterlo a questo prezzo avevamo in mente di metterlo a 5.000 euro perché veramente come vi faccio vedere prima nella strategia veramente in due giorni avreste potuto fare 400 euro quindi in più vediamo tutto quello che sappiamo su questo mondo con il supporto con un anno di utilizzo del sito con un anno di assistenza e con un anno di reportistica però per dare la possibilità a tutti di poterlo acquistare abbiamo deciso di venderlo a solo il 1199 considerate che qui all'interno di questo webinar c'è una persona che in una sola operazione li ha non recuperati ma molto di più proprio perché vi diamo una conoscenza che potete applicare sempre cioè il corso una volta acquistato è vostro e potete rivederlo quante volte volete e addirittura se vi esercitate sufficientemente potete farlo diventare anche il vostro mestiere che secondo me nei prossimi anni il trading sarà sempre più parte del reddito delle persone e delle famiglie perché purtroppo per fortuna l'economia si sta spostando sempre di più sulla finanza piuttosto che sull'economia reale e questo è un dato di fatto questo è il bonus per voi che siete rimasti per i primi 5 che lo acquistano entro domani alle 12 avranno uno sconto del prezzo che diventerà da 1199 a 99 quindi c'è uno sconto di ben 200 euro solo però per i primi 5 perché non possiamo darlo a troppe persone per poter far l'acquisto basta andare sul nostro sito che è toptradingacademy.com ve lo metto qui in chat nella sezione shop qui troverete il corso in offerta vedete qui che è in offerta a 9,99 invece che 1199 solo entro domani alle 12 però di più non posso perché è veramente già è un prezzo stracciato considerate quello che potete fare con una strategia di questo tipo è veramente come si dice tanta roba vi lascio anche il nostro IBAN se volete potete fare anche un pagamento tramite bonifico e questo è il nostro IBAN ve lo faccio vedere e ve lo incollo anche questo in chat così che lo potete segnare oppure copiarvelo incollarvelo da qualche parte se avete domande anche nei prossimi giorni vi lascio anche la nostra mail questa è la nostra mail vi invito a non perdere tempo perché due sono già andate quindi siate abbastanza veloci perché potreste perdere l'occasione di acquistarlo a un prezzo veramente scontato considerate che noi per arrivare a questo punto abbiamo speso decine di migliaia di euro perché purtroppo nessuno ti insegna veramente come fare a fare a fare trading in più il vantaggio che avete qui è l'applicabilità perché soprattutto quando un inizia che non ha diciamo dimestichezza si legge libri fa corsi ma quello che gli viene spiegato sono concetti e i concetti non sono applicabili fin tanto che non li sviluppate matematicamente quindi io posso avere in testa mille concetti ma quando sono davanti del grafico non so cosa fare quindi ho bisogno di avere una approfondita conoscenza della matematica e dell'economia qui è già tutto automatico è come se vi dessimo in mano una macchina e vi diciamo ho perso la connessione audio no ok mi sentite ora allora considera arti che il problema non sussiste perché i cicli sono belli perché tu ti scegli la tua temporalità io mi sono scelto il 4 giorni per non stare troppo attaccato al pc ma tu puoi anche operare un mensile quindi mi fai un'operazione ogni 15 giorni quindi non sei obbligato a stare a mercato tu entri se hai un altro lavoro noi abbiamo anche clienti che non sono trader professionisti hanno un altro lavoro però si sono concentrati su un ciclo di medio periodo fanno un'operazione ogni due settimane un'operazione al mese e si e si fanno diciamo la loro operatività sì Antonio domani te lo te lo mando chiaro arte cioè il bello dei cicli è proprio questo che il concetto è uguale dal brevissimo fino al lunghissimo è lo stesso identico concetto e come vi stavo dicendo l'applicabilità qui è un valore aggiunto incredibile perché se io vi facessi leggere 100 libri anche vi trovate con 100 concetti seppur giusti ma poco applicabili avete bisogno di svilupparli matematicamente fare dei test e sperare che siano corretti senza contare che avete bisogno di una conoscenza della matematica abbastanza approfondita qui dovete solo imparare ad usare dovete solo capire che qui indica un minimo dovete capire che cosa cosa è possibile che faccia il prezzo qua in relazione a quello che gli indicatori vi dicono e calcolare il rendimento sul rischio e fare le vostre operazioni cioè è una scorciatoia di dieci anni e non sto scherzando perché qua avete una macchina pronta all'uso altrimenti dovreste studiare per fare il paragone la meccanica dovreste provare a costruire tutti i pezzi montare un'auto provare a vedere se va e poi imparare a guidarla qua avete già l'auto dovete solo imparare a guidarla è un altro è un altro andare come si suol dire sono rimasti due posti quindi se avete problemi con il pagamento fatemi sapere scuola guida sì il paragone è quello io tenterò più avanti come vuoi arte come vuoi la promozione c'è ora più avanti non si sa allora mediamente in quanto tempo si può diventare operativi questa è una cosa che dipende da te da quanto ti applichi e il trading è un'attività che incorpora una componente emozionale che è forte quindi io non so dirti con precisione tra quanto puoi essere operativo perché è questo perché ci sono persone che magari sono più predisposte emozionalmente e ci mettono meno tempo ma ci sono persone che si fanno prendere molto dalle emozioni e che ci mettono di più la cosa è il passaggio corretto è studiare tutto operare su una piattaforma di trading simulato quando riuscite a fare profitto lì spostarvi sui mercati reali perché altrimenti è troppo rischioso e rischiate di perdere soldi dovete comunque nonostante sia abbastanza semplice capire come funzionano questi indicatori dovete comunque assimilare i concetti perché i concetti comunque sono tanti sono 110 video però non è non è niente di impossibile ci vuole un po' di tempo ci vuole un po' di applicazione è tutto chiaro finora c'è qualcosa che vi sfugge o qualcosa che volete che vi ripeta allora no se posso chiedere ma quale piattaforma si può anche tradare in automatico no devi comunque essere sempre tu a a eseguire le operazioni allora ti dice no se posso chiedere ma quale piattaforma in risparmio amministrato hai da suggerire tu intendi per risparmi intendi il regime fiscale amministrato cioè che nelle operazioni in gain ti viene trattenuto il 26% ok allora considera che io utilizzo un interactive broker però essendo estero lo utilizzo perché nella fornitura dati è il più è il più affidabile però per il resto ce ne possono essere tanti tutti i broker italiani diciamo ci può essere IG market che è abbastanza grosso però dico io utilizzo interactive e mi trovo bene con quello Fabio chiede dopo il primo anno c'è un cane anno per l'utilizzo della piattaforma allora considera che i corsi ti rimangono a vita non c'è rinnovo poi se vuoi dopo il primo anno c'è il rinnovo annuale di questa piattaforma in cui hai tutti gli indicatori e la reportistica e il supporto che costa 700 all'anno però in relazione a quello che puoi fare nell'anno dovresti riuscire a ripagarselo dico dovresti perché ovviamente non posso assicurarlo allora non hai capito il prezzo allora il prezzo è 1199 il prezzo originale se lo compri entro domani alle 12 è 999 te lo faccio rivedere guarda ho dato il bonus i primi 5 che lo acquistano entro domani alle 12 hanno questo tipo di prezzo per acquistare ho messo l'iban quindi puoi fare un bonifico oppure puoi andare in questo sito che te lo rimetto qua così vai in shop e puoi acquistarlo dal sito utilizzando paypal o paypal qui fai aggiungi il carrello e poi procedi col pagamento è chiaro Antonio? ok considera che sono rimasti due posti quindi se vuoi fare il bonifico magari avvisami così ti tengo il posto ok mi sono spiegato oppure no non sai come funziona cosa è un bonifico normalissimo di 9,99 inserisci tutto c'è 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 il corso apposta nel corso ti viene spiegato tutto come come utilizzare io qua te l'ho spiegato velocemente perché abbiamo a disposizione poco tempo è più una presentazione ma non penso che nessuno riesca a utilizzare questi indicatori già da domani c'è bisogno di una spiegazione ulteriore questa è una presentazione mi sono spiegato mi sono spiegato prego arte ciao ok domani ce l'avrai via mail via mail ti manderò il link per rivederla come manderò a tutti ciao Gilberto figurati prego c'è qualcun altro che che vuole che vuole vedere qualcosa che che ha delle domande buona serata tutto chiaro per tutti sembra tutto chiaro per tutti perfetto ok io vi vi reinserisco i dati per chi vuole acquistare e se non ci sono altre domande vi vi auguro una buona serata e vi saluto questo è appunto per il bonifico questa è la nostra mail mentre questo è il sito per poter effettuare l'acquisto se non ci sono altre domande vi auguro una buona serata e a risentirci figurati Luca buona serata anche a te grazie a tutti